Una vita dedicata allo sport, alla lotta cinese, disciplina per cui si allena duramente da anni e che gli ha portato grandi soddisfazioni. Alessio Pasciulli, termolese, è diventato quest'anno campione del mondo nella categoria 82 kg a Shanghai, nella culla della lotta cinese sbaragliando temibili avversari, anche locali. Il giovane atleta è venuto a trovarci per raccontarci i suoi exploit sportivi e non solo. Ho avuto il piacere di vincere contro i russi, gli americani, i canadesi stessi e i cinesi stessi in finale con un cinese. La cosa più bella che mi poteva capitare. Guardando questo giovane atleta nessuno direbbe che solo due mesi fa gli è stata diagnosticata una grave patologia congenita. Ma prima Pasciulli ha dovuto vivere un calvario perché nessuno all'ospedale Santimoteo di Termoli, dove è stato ricoverato per 17 giorni, riusciva a capire a cosa fossero dovuti i suoi mal di testa e la paralisi degli arti. Una mattina mi sono sentito male, ho avuto dei sintomi molto, possiamo dire, brutti, come paralisi degli arti e poi eventuali mal di testa a seguito di questi paresi. E quindi sono stato ricoverato all'ospedale di Termoli. Purtroppo devo dire che all'ospedale di Termoli non hanno capito un cranché, non si è riuscito a capire cosa avessi. Sono stato lì 17 giorni, in questi 17 giorni c'erano molti dottori, venivano, ma purtroppo non hanno capito. Non sono stati competenti e non sono stata all'altezza di capire cosa avevo. La diagnosi invece è arrivata dagli esperti dell'Istituto Neuromed di Pozzilli. La guarigione poi, grazie ad un delicato intervento effettuato presso la Clinica Montevergine di Mercogliano, diagnosi e cura che hanno restituito al campione una vita normale e il ritorno alle sue attività sportive. Hanno capito tutto nell'ospedale di Pozzilli, dove è una clinica all'avanguardia, e quindi tra le prime tre nell'Europa, la Neuromed di Pozzilli. Dopodiché hanno capito il problema qui a Pozzilli e sono stato trasferito per essere operato al cuore di un forame ovale pervio nella clinica di Mercogliano, provincia di Avellino, dove è trovato gente all'altezza, sia a Pozzilli che a Mercogliano. La fine di un incubo lo definisce la mamma di Alessio. Io penso una cosa, che quando un paziente, un malato, si trova in queste situazioni che non sai, che cos'hai, è il modo di porsi verso il paziente. Bisogna avere umiltà e capire. E se non si capisce abbiamo delle strutture, come qui, ecco, in Molise, in Pozzilli, che è un centro. Io parlo per mio figlio, bisognava mandarlo fuori prima. Devo ringraziare veramente il dottor Modugno, che subito si è presso cura di lui insieme alla dottoressa, qui a Pozzilli. A Mercogliano devo ringraziare il Vito Ambrosini, con la caposala e tutte le equip che sono stati umili.